buongiorno a tutti oggi preparo un cionbellone all'arancia e mandarino e mela ingredienti 500 grammi di farina 5 uova 300 grammi di zucchero 250 ml di mandarino e succo d'arancia ho messo due mandarine e due aranci spremute 150 ml di olio una postina di lieve del dolci e 150 ml di latte 5 uova e 2 mele fate pezzetti iniziamo ho messo la farina metto lo zucchero e il lievito li mescoli le uova il latte il succo d'arancia di mandarino e l'olio aggiungo le mele fatte a pezzetti ora metto tutto nella forma della ciambella e la lavata ad infornare a 180 gradi a forno statico fino alla cottura dopo 40 minuti di cottura è pronta mettiamo un po di zucchero a bello sopra e vediamo come è venuto ciao 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 ciao